Buone notizie per i quattro writer italiani, due abruzzesi e due marchigiani arrestati in India. Dopo la firma del giudice di Mumbai del provvedimento per la remissione in libertà, ieri anche il magistrato titolare del secondo provvedimento, quello di Ahmedabad, ha colto l'istanza per la liberazione su cauzione. Questo significa che con ogni probabilità a stretto giro i quattro ragazzi fermati in India per aver fatto dei graffiti sui treni potrebbero tornare in libertà. Cresce l'ottimismo dopo giorni di attesa tra i familiari in apprezzione da settimane e in questo periodo sempre assistiti dagli avvocati Francesca Di Matteo e Vito Morena di Albadriatica. Nella giornata di ieri il 21enne Daniele Starinieri di Spoltore, il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto, il 29enne Baldo Sascia di Monte San Vito e il 27enne Paolo Capecci di Grotta Mare sono comparsi in aula nella città di Ahmedabad, dove oltre che di violazione di domicilio sono accusati anche di danneggiamento. In questo caso la cauzione per la libertà è stata fissata in 60.000 rupie indiane, circa 750 euro, che solo per questioni di tempo legate alla chiusura degli uffici non sono state versate nella giornata ieri. Lo saranno con ogni probabilità oggi con la riapertura degli uffici e successivamente i quattro dovrebbero essere rimessi in libertà, dopo che anche nell'udienza di Mumbai ha accolto l'istanza di libertà su cauzione, fissando il costo di 40.000 rupie, circa 600 euro, in questo caso già pagate.